Bisogna fare presto, perché l'opera è attesa da anni e resta per l'Abruzzo una priorità assoluta. Anche l'Associazione Generale Cooperativa Italiane, Casa Artigiani, Confederazione Italiana Agricoltori, l'Associazione dell'Artigianato e della Piccola e Medie Impresa, CNA, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Lega Coop, CGL, CISL, UIL e UGL intervengono sul progetto che prevede il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara, chiedendo alle istituzioni e alla politica, regioni, amministrazioni comunali e parlamentari, che il tema sia affrontato con equilibrio e senso di responsabilità, guardando all'obiettivo di fondo che si vuole perseguire e dunque non alimentando le proteste dei cittadini. A nome delle 16 sigle che rappresentano il mondo dell'impresa, dei sindacati e dei lavoratori, parla il direttore regionale della CNA, Graziano Di Costanzo. Noi rispetto al raddoppio della ferrovia, a quest'opera fondamentale per lo sviluppo della nostra regione, soprattutto sulla direttrice Est-Ovest, noi stiamo chiedendo il nuovo corridoio all'Europa, abbiamo la ZES, che è la zona economica speciale, che va verso l'interno, quindi verso Roma, chiaramente il raddoppio della ferrovia è un'opera strategica. Noi, l'ho già detto, chiaramente l'Abruzzo è una regione, diciamo, cerniera centrale, abbiamo ottenuto dall'Europa finalmente l'allungamento della rete TNT sul corridoio Adriatico fino a Barilecce, prima si fermava ad Ancona, stiamo facendo una battaglia importante, noi qui siamo tutte le associazioni datoriali e tutte le associazioni sindacali dell'Abruzzo, che abbiamo richiesto fortemente la trasversalità sul corridoio Barcellona-Civita Vecchia-Pescara-Ortona-Ploce, e quindi il raddoppio della ferrovia si inserisce dentro questo contesto ed è fondamentale e strategico per il futuro sviluppo dell'Abruzzo, sia per le imprese ma anche per le popolazioni. Noi chiediamo che l'opera venga fatta senza alcun ritardo, naturalmente, compatibilmente con le esigenze dei cittadini, se sarà possibile una modifica che non ritardi l'opera, quindi però tenga conto anche di queste problematiche, noi siamo assolutamente d'accordo.